ciao a tutti e benvenuti alla diretta ragazzi come state andiamo sulla chat che non ancora aperto perché sono in ritardo sì ma come sa chi è sul gruppo telegram stavo finendo la pizza e chi è sul gruppo telegram l'ha anche vista in foto se siete in chat ditelo sembrava molto buona vero era anche molto buona non sembrava solo ci servirebbe un po più di luce però in questa posizione perché siamo veramente al buio quindi mettiamo questo qui lo mettiamo magari un po più forte e lo mettiamo qui devo organizzare ragazzi un perché ormai il setup dei video normali devo dire che a me piace molto secondo me è venuto molto figo con la scrivania le luci che ho messo ma quello delle live lascia ancora un po a desiderare però pian piano lavoreremo anche su quello vedete che non mi convince per niente questa luce ma non siete qui per la luce siete qui per parlare un po in italiano con me sentire un pochino di italiano mentre mi finisco la cocina la coca cola salutiamo un po di persone che sono entrati ciao claudio ciao silvain ciao maria ester italian bailatin eccolo qui come stai martin ciao andrea ciao luca e ciao neto buonasera a tutti e benvenuti a quest'oretta di chiacchierata in live che tra l'altro per la prima volta è in live in contemporanea anche su facebook andiamo a vedere se in live in contemporanea anche su facebook in realtà ma mentre scendiamo mettiamo un po di musichetta che non fa mai male un po di sottofondo musicale come faccio metto ma lo metto da qua dovreste sentirlo fermati 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 ok chiamola così ditemi se troppo forte troppo piano se la sentite un po di musica lo fai tranquilla rilassante anche perché qui sono le nove di sera non so che ora è da voi dipende dove siete però mettiamo un po di musichetta di sottofondo e andiamo a vedere se è partita live su facebook allora mattia lingua franca eccoci qua come state voi che mi raccontate scrivetemi un pochino di cose in chat così poi le leggo e chiacchieriamo un po allora come si fa a sapere se sono in live non ho mai fatto una live su facebook a eccolo qua inizio dice che deve iniziare qualcuno ha voglia tra voi di andare sul mio facebook e vedere se sono in live anche lì e se sono in live perché non dare una condivisione su qualche gruppo di apprendimento dell'italiano così portiamo persone nuove siamo già 15 salutiamo i nuovi arrivati ciao peter ciao persefo ciao mar ciao claudio metti un po di musica leggera perché voglia di niente claudio senza le sue citazioni e i suoi pezzi di canzoni non è claudio diciamo ciao iolanda benvenuta alla live e mar è ancora per strada mar come stai prende il telefono stasera mentre sei per strada benvenuta belen e ciao anche ad anna ok io tra l'altro da qui dovrei vedere tutti i commenti anche quelli che arrivano da facebook o forse no non ne ho la più palle di idea perché appunto non ho mai fatto una live su facebook e non so ancora neanche se è partita non ho non ho la più pallida idea di come funzioni credo sia partita chi lo sa così è un mistero ma sapete che queste live chiacchierate che facciamo sono proprio sono così come dire tra amici tra amici che chiacchierano sempre sul gruppo telegram quindi io non perdo occasione per invitarvi a iscrivervi lo trovate qui sotto in descrizione è gratis ci sono quanti siamo adesso ragazzi 260 mi pare persone che chiacchierano tutto il giorno tutti i giorni a tutte le ore in italiano quindi se avete bisogno di un po di pratica di italiano è uno dei posti migliori del mondo a proposito mi hanno detto prima sul gruppo che simone di italiano in sette minuti con cui abbiamo già fatto tante live e anche un video insieme mi ha menzionato ha menzionato il nostro gruppo telegram nella sua ultima newsletter e mi ha anche scritto in realtà oggi devo ancora rispondergli quindi perché no rispondiamo gli adesso gli mando un vocale così sentite anche un vocale mandato da un italiano a un italiano sentite come parlo con lui normalmente e magari noto qualcosa notate qualcosa chissà qualche espressione particolare italiana o magari no non lo so allora mi propone di fare una live a gennaio che è una buona idea eccolo qua ciao simo come stai allora intanto ti sto rispondendo mentre sono in live su lingua franca sto provando per la prima volta fare la live anche su facebook e non capisco una mazza perché non ho idea di come funzioni e ho detto perché non mando un messaggio a simo mentre sono in live così sentono sentono come parliamo tra noi poi ho paura di essere un po come si dice un po di modificare un po come parlo perché sono in live però sto cercando di parlare in maniera più naturale possibile la live a gennaio ci sta ci sta tantissimo quindi assolutamente sì cominciamo magari a fissare una data possibile e prepararci qualche argomento e faremo una grande live tra l'altro mi hanno detto sul gruppo che hai menzionato il gruppo telegram nel nella tua newsletter che poi ho visto grazie mille bellissimo e assolutamente mi ha fatto molto molto piacere ci sentiamo presto ciao bello avete appena avete appena sentito come come sentite sono molto lento ma di messaggi vocali ci metto tantissimo tempo mandarle un minuto per dire ciao ok però magari avete notato qualche espressione colloquiale nel frattempo salutiamo Bettina bitter grace patricia ciao jana rosina a jana da mosca che freddo che fa a mosca adesso un'amica che vive a mosca e delle storie su instagram con un freddo incredibile ciao rosina a luca grazie mille partita anche su facebook sì e in effetti vedo qua sopra mi dice che c'è una persona connessa su facebook magari si diffonde magari no e mar si hai ragione hai ragione è da una vita che non faccio le chiamate su telegram perché sono super super impegnato ultimamente ma sì decisamente devo devo ricominciare anche a fare quello giuro anche perché c'è questo nuovo progetto incredibile che non posso dire pubblicamente ma chi è nel gruppo di telegram lo sa quindi se non ci siete ancora venite a trovarci perché è una grande occasione che mi fa molto piacere piacere condividere con tutti voi allora cosa che fa il calaudio cominciato a preparare la carbonara e mi accorgo che non c'è il guanciale in un sì la carbonara senza guanciale potrebbe essere un pochino un problema puoi provare a farla vegetariana non so cosa ci puoi mettere dentro io tra l'altro quando faccio la carbonara uso quasi sempre non il guanciale ma la pancetta fumicata che lo so che è sbagliato però è abbastanza accettato in italia di usare la pancetta invece del guanciale anche se i puristi giustamente dicono che bisogna usare il guanciale e jana ci conferma che a mosca ci sono meno 10 gradi e tanta neve freddissimo freddissimo anche qua è ormai fa freddino ma qui siamo ancora sopra lo zero quindi figurati come sentite dalla mia voce sono anche raffreddatissimo e tre giorni che sono super super raffreddato e non sto molto bene però non è covid siamo di questo siamo sicuri almeno quello è solamente un po di influenza stagionale quindi mi vedrete durante questa diretta un pochino più stanco e un pochino più ammosciato del solito la puoi fare mettere in diretta su youtube ma in video sì ma mar allora in realtà mario questa cosa l'ho già proposta e poi non c'è mai nessuno che vuole parlare di venire con me in live a chiacchierare io quando qualcuno vuole venire in live con me a chiacchierare in queste live di chiacchierata semplice per un'oretta io ci sono sempre basta che mi scriviate su telegram e veniate anzi mar se vuoi venire se vuoi venire in diretta a chiacchierare un pochino ci amo luca che è italiano e luca è il videomaker che mi ha aiutato a fare tanti video quindi sicuramente l'avete anche già visto da qualche parte in qualche vlog dice che effettivamente quasi nessuno usa il guanciale è vero lo confermo poi quando capita che c'è il guanciale è sempre molto bello però quasi sempre si usa la pancetta perché la pancetta si compra nelle scatolette al supermercato già tagliata a cubetti ed è molto molto più comodo rosina io vivo a torino nel nord nel nord italia mar allora martimando tu sei da telefono giusto ti mando un link per entrare qui in diretta con me te lo mando su telegram ragazzi abbiamo mar ospite incredibile aspettate che devo capire che fa in vita qua allora invitiamo mar così chiacchieriamo un po con lei mar che chi non lo sapesse è l'unica iscritta di di lingua franca che ho mai conosciuto dal vivo perché ci siamo incontrati a barcellona è venuta a trovarmi mentre ero in vacanza a barcellona e abbiamo chiacchierato un sacco in italiano e anche in spagnolo almeno io ci ho provato lei dice che il mio spagnolo è meglio del suo italiano ma secondo me non è vero allora marti devo solo trovare dove sei per mandarti il link eccoti qua mar via messaggio se entri sul link che ti ho mandato puoi entrare poi in chat con me e sei in giro e lo so che sei in giro vedi tu fai tu io te l'ho mandato il link se vuoi provare se sentiamo se puoi parlare se no tranquilla facciamo la prossima volta io te l'ho mandato nel dubbio ciao da bussolino ci dice iolanda un'altra italiana madrelingua che che ci sta seguendo anche lei dall'italia e da bussolino che è un piccolissimo piccolissimo perché non so quanti abitanti faccia ma penso meno di mille bussolino è una frazione una frazione di un paese quindi è veramente un posto piccolissimo po' fuori torino ecco mar mar sei con noi streaming ciao ciao sono con voi in giro per strada dove sei a barcellona fuori barcellona sono a premiati mar che è una cittadina 30 chilometri al nord di barcellona al nord di barcellona bene 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 stai tornando a casa sì sono uscita dal lavoro molto molto tardi alle 8 15 è tardissimo mi dispiace ma ti vedo bella vestita fa freddino anche lì quindi eh un po' sì un po' meno che qua sicuramente infatti conto di fare se posso un giretto a barcellona trovare i miei amici verso gennaio febbraio però lo so che farà freddo anche lì ho voglia di andare al caldo ragazzi ho voglia di andare da qualche parte al caldo in questo momento invidio molto tutti tutti voi che vivete in brasile in questi posti dove in questo momento si sta bene invece mar noi dobbiamo stare al freddo ancora per qualche mese eh sì purtroppo ecco sentite come parla bene italiano mar mar visto che non sei mai stata io lo so già ma non sei mai stata in diretta con me racconta un po' da quanto studi italiano come lo studi io studio l'italiano da un anno 13 mesi per essere più esatti e lo studio da sola eh non lo so con i video con i libri eh i romanzi eh su Clubhouse ci sono un sacco eh ascoltando tantissimo molto utile eh tutto qua questo è tutto direi che avete sentito come lo parla quindi non non ve lo devo dire io ed è meno di un anno eh che che studia l'italiano e lo studia da sola è vero è che mar parla spagnolo come lingua madre quindi sicuramente una lingua molto vicina all'italiano ed è più facile per lei rispetto magari a qualcuno che parla l'inglese o il russo o qualche altra lingua molto diversa dall'italiano però semplicemente chi parla una lingua più lontana dall'italiano ci metterà un po' più di tempo ad arrivare allo stesso livello ma ci si arriva lei ce l'ha fatta in dieci mesi tanto che Claudio dice mar bravissima mar riesce a camminare e addirittura a parlare in italiano eh non so come lo sto facendo raga e infatti Belen lo so lei dice sempre che non lo parla bene ma lo parla molto 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 bene e e Luca invece ci dice che Dario l'altro nostro amico videomaker proponeva Tenerife a gennaio molto bello Tenerife non deve non deve essere male non ci sono mai stato ma ho visto tante foto molto belle di quei posti che dici ma un giretto ecco tu come lo vivi questo freddo lo patisci anche tu io adesso sono davvero ho molto caldo adesso perché sto camminando velocemente quindi sì ho molto caldo ma a me non piace il freddo io io sono un fiore di estate sono molto d'accordo con te anch'io poi quando fa troppo caldo comunque non è il massimo ma sempre meglio del freddo questo è poco ma sicuro sì assolutamente è un peccato che sia così buio perché io il cammino che percorro quando ritorno a casa è lungo al mare e non ve lo posso mostrare è un peccato troppo tardi troppo tardi a quest'ora abbiamo anche un'altra persona che si propone per per venire a farci un saluto non credo di poter pronunciare il suo nome cucunolium sono sicuro di averlo pronunciato in maniera sbagliata assolutamente sì puoi parlare non so bene come si può fare ma posso mandarti semplicemente il link in chat quindi mar io ti ringrazio tantissimo per essere passato a salutarmi è stato molto bello ti lascio camminare tranquilla così non rischi di andare a sbattere contro qualcosa aspetta ho ancora una domanda per te però claudio ci chiede se quindi è obbligatoria di nuovo all'esterno la mascherina lì no no ma io io la porto sempre mar è bravissima confermo anche quest'estate che l'ho vista anche fuori ce la va sempre anche col caldo quindi molto molto brava va bene ma ci sentiamo sul gruppo e sì verrò a fare live sul gruppo e rifaremo queste chiacchierate anche in diretta magari organizzate un po' meglio la prossima volta ok buon ritorno alla prossima ciao 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 e io direi che metto in direttamente in chat perché perché no il link per collegarsi qui quindi se voi vi collegate a quel link lì io vi vedo nella finestrella qui in basso e posso invitarvi a a partecipare a fare un saluto in diretta abbiamo ancora una quarantina di minuti insieme abbiamo 26 persone che ci stanno seguendo e mi sembra il momento perfetto per ricordarvi di cliccare sul tasto mi piace lo sapete che devo dirlo non vi lamentate è una cosa da youtuber che bisogna fare e però aiuta aiuta tanto aiuta tanto il canale perché se cliccate mi piace youtube lo fa vedere a più persone ormai la sapete tutta questa storia ragazzi non ve lo devo raccontare io quindi se non l'avete ancora fatto un click lì sopra è sempre un grande aiuto come ringrazio tantissimo chi condivide i miei video sui gruppi su facebook perché più più persone li condividono più persone effettivamente trovano il canale e più persone trovano il canale più video posso fare più facile diventa più bello e papà c'è qualcosa di nuovo non ancora a proposito di serie italiane voglio poi farci un video quindi poi ne parlerò meglio in un video prossimamente ma ho cominciato anche perché con carlo verdone che si chiama non mi ricordo neanche più però è su prime video quindi probabilmente potreste potreste vederla anche potete vederla anche voi si chiama vita da carlo carlo verdone famosissimo attore italiano che appunto ha fatto questa serie sta recitando e ha credo anche scritto questa serie in cui interpreta se stesso fondamentalmente ho visto tre puntate per adesso e mi sono piaciute molto vediamo come va la finisco e poi ci faccio un video mentre chissà se qualcuno di voi ha guardato la serie di zero calcare strappare lungo i bordi si chiama tear along the dotted line mi pare in inglese quindi se siete in un paese anglofono su netflix la trovate così che è la serie su cui ho fatto un paio di settimane fa due tre settimane fa un video ed è una serie che non vi aiuterà a migliorare il vostro italiano perché è tutta in romanesco in dialetto e accento romano molto molto forte per gli italiani è abbastanza semplice da capire anche perché lo sentiamo sempre in tv e poi è molto simile all'italiano però è molto simile ma non uguale e quindi se il vostro livello è non molto molto alto ma anche se molto alto farete sicuramente un po di fatica però è una serie molto divertente che consiglio tantissimo se avete voglia di vedere una bella serie animata un cartone animato in italiano o quasi diciamo così eh sì eh sì e mar dice una cosa molto vera che non si può pensarci troppo quando volete parlare in italiano in live adesso ma in generale quando volete parlare in italiano perché poi viene un po di paura ci si vergogna questo vale sempre vale anche sul sul gruppo telegram per esempio dove molte persone quando entrano la prima volta si vergognano a parlare a partecipare alle chat vocali che si fanno sul gruppo e però in realtà tutti all'inizio provano provano la stessa cosa poi appena ci si butta ci si accorge che ogni tanto si fanno brutti o meglio sembra di fare brutte figure ma nessuno gliene frega niente perché è normale fare tanti tanti errori all'inizio poi pian piano si migliora ma per migliorare bisogna buttarsi e provare a parlare effettivamente in italiano con altre persone sentite che fatica che faccio a parlare perché sono raffreddato sono tutto chiuso allora ah io volevo farvi vedere una cosa devo andarla a prendere perché non ho preparato niente perché di nuovo chi era sul gruppo prima già lo sa ma stavo finendo di mangiare una pizza e sono tornato a casa un quarto d'ora prima della live ho dovuto mangiare la pizza quindi poi sono saltato a computer per la live immediatamente vorrei vedere ma perché poi vorrei farci un video in realtà però cominciamo a farlo così in live le pubblicità italiane vecchie 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 per me sono quelle che mi ricordo da bambino vuol dire quelle degli anni 90 principalmente perché io ho 31 anni stavo per dire 30 ma in realtà ne ho 31 e quindi vorrei vedere con voi pubblicità degli anni 90 italiane vado a caso e scelgo un video a caso quindi non so anch'io che cosa vedremo ma vorrei commentarle con voi come fanno gli youtuber veri che fanno i video di reaction poi magari lo faccio anch'io su queste pubblicità perché viste oggi sono molto divertenti però cominciamo a farle così insieme allora devo prendere questo devo condividere lo schermo come vedete siamo molto improvvisati stasera ma ci sta perché appunto è una chiacchierata tra amici devo condividere l'audio se no non va bene quindi questo devo toglierlo condividi condividi schermo mi serve un regista per fare queste cose non posso fare tutto da solo ok allora sì lo so ma non è questo lo schermo che voglio condividere eh però è complicato eh è molto complicato e lo so che perderò delle persone in diretta perché diranno che noia questo qua che parla me ne vado però se mi date ancora un secondo ce l'ho fatta ok ora vediamo uno schermo che non è la mia faccia ripetuta mille volte togliamo la musica perché avremo tanto la musica l'audio del video e io ho cercato proprio semplicemente su youtube pubblicità anni 90 vediamo un po' che cosa ci propone youtube cominciamo da questo perché già l'immagine di anteprima me la ricordo e sarà molto bello questo momento fatemi sapere naturalmente se per caso si sente male l'audio o troppo forte o troppo piano guardiamolo insieme e fermiamolo per commenti vaso cinese del seco ambrogio si è bloccato tutto no? sì? cosa succede? ok ricominciamo vaso cinese del seco ambrogio signore no ragazzi internet non mi può fare questo non può farmi questo perché internet mi fa questo? carica? ah ok sta caricando che fatica anch'io vorrei vivere in una nazione in cui internet funziona meglio ecco se dobbiamo trovare qualcosa di negativo è che internet in Italia tranne in alcuni posti non è il massimo però facciamo quello che possiamo vaso cinese del seco ambrogio signore no mi hai detto ma non è internet perché si blocca così anche se è caricato io e la tecnologia ultimamente non andiamo per niente d'accordo proviamo a togliere il tutto il schermo intero vedete che qualcuno si sta disconnettendo io lo so che vi sto annoiando però vorrei tanto farvi vedere questo video ma il mio computer ha deciso che non vuole no niente vabbè continuiamo a chiacchierare nel frattempo cerco di risolvere questo questo problema che non so se è un problema di internet o un problema del mio computer non bello lo so però come vi ho detto stasera è improvvisata ma volevo fare una chiacchierata con voi ma oh ma ci ha raggiunti Luca sono distrattata ovviamente è partita adesso quindi togliamo un attimo sta roba e speriamo che carichi nel frattempo e diamo il benvenuto in diretta a Luca ehi la mi senti bene ti sento benissimo perché hai un set incredibilmente professionale ma non è vero in realtà ho appena fatto il trasloco e quindi ancora tutto quanto sotto sopra peccato perché lì vedo già un set da youtube infatti guarda che ci sono cose ma sai che mi hanno mandato questa cosa qua sai che cos'è un teleprompter teleprompter da provare da provare assolutamente sì ah che bello infatti non vedo l'ora di recensirlo Luca è un videomaker e ha anche un canale youtube che come si chiama il tuo canale Luca? Luca Scomparin molto semplicemente il suo nome e cognome e in cui fa recensioni di prodotti video fighi fa un po' di robe relative al videomaking quindi se qualcuno di voi impara l'italiano ed è interessato al videomaking consiglio assolutamente di iscriversi a Luca anche perché quando vedete i miei video belli fuori girati con un po' di effetti strani è lui dove sei? è di qua è lui che mi aiuta sempre quindi assolutamente dovete andare a seguirlo perché è parte di lingua franca anche Luca lo sto dicendo a tutte e 32 le persone che ci stanno ascoltando Luca ok grazie allora adesso posso andare io sono entrato solo per questo motivo per farmi fare lo spot per youtube esatto infatti tra l'altro in chat vedo che chiede di nuovo di nuovo faccio fatica a pronunciare il nome perché è lunghissimo secondo te come si pronuncia Luca il nome? adesso te lo vedo anche io chi è? e quello che menziona Faustino nel suo messaggio cuccuoneelum cuccuoneelum credo anch'io però probabilmente ci stiamo sbagliando tantissimo ah mi chiedono di mettere il link del del canale del gruppo telegram in chat in chat ma in realtà è qua sotto ragazzi se siete su youtube andate in giù e il primo link nella descrizione del video è il link al gruppo telegram quindi lo trovate subito oppure andate su telegram e scrivete lingua franca nella ricerca e lo trovate è molto molto semplice tra l'altro come sta andando il gruppo telegram? il gruppo telegram è a 200 te lo dico subito guardiamolo dal vivo vediamo anche se qualcuno ha scritto ah si sono uniti un sacco di persone però ci sono 270 persone abbiamo raggiunto stasera grandi ragazzi io vi giuro ragazzi che se non ci siete tutto il giorno tutti i giorni c'è gente che parla italiano io ogni tanto non posso perché sono impegnato non lo guardo per mezza giornata e trovo 400 messaggi nuovi più gente che parla in diretta perché appunto c'è la possibilità per tutti quando volete di creare una chiamata audio o video anche e di o sentirsi solo o vedersi e chiacchierare con tutti quanti insomma quindi ma farai mai un video dove parli della community delle persone che ti seguono che ti ah c'è già in cantiere il problema è che come tu ben sai Luca perché Luca oltre a essere il mio videomaker di fiducia e anche il mio consulente per tutto quello che riguarda le idee su lingua franca non lo sapevo non lo sapevi eh scusa e quindi come saprai le idee non bancano ne ho fin troppe di idee il problema è il tempo però adesso man mano il 2022 diciamo così è un anno in cui ponderò a produrre molto più contenuto molto più materiale anche fatto un po' meglio nel senso i famosi video fuori l'ok l'ho detto lo so che lo dico sempre poi l'ho detto cento volte non li faccio ma li sto organizzando Simo ciao Simo abbiamo anche Simo in chat con noi che ci segue e che Simo appunto come dicevo prima ha menzionato il gruppo oggi nella sua newsletter che manda i suoi iscritti di italiano in sette minuti e quindi grandissimo Simo grande Simo grande Simo e tu Luca come va quindi hai appena traslocato ma sì ma infatti guarda adesso provo a spostarti non so se si vede perché ero sull'altra vedo un po' di sacchetti vedi è tutto quanto ancora lì da fare c'è una una tastiera la chitarra ovviamente tutti i vestiti le robe perché Luca è anche musicista e ancora però da quant'è che non pubblichi una canzone ma sai che ho appena finito di registrare due pezzi nuovi e infatti a gennaio qui lo dico e siete voi primi a saperlo anche se non è il mio pubblico ma comunque lo sanno loro per primi vado in Calabria a registrare due videoclip che figata ma te li giri da solo come fai quando sei sia videomaker che musicista no perché qual è la cosa bella di essere qua su YouTube o in genere in questi mondi molto digitali che ho conosciuto una persona tramite YouTube Maurizio che è un mio amico videomaker della Calabria siamo diventati amici e lui ha deciso di girare il mio videoclip quindi a spese sue lì in Calabria e quindi è bellissimo è bellissimo perché è gratis no non è vero però anche sicuramente aiuta ma poi le tue canzoni le posso usare nei miei video quindi sì 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 sono 100 euro a passaggio ma si può fare se paghi a passaggio addirittura a passaggio certo siamo messi così proprio Simo naturalmente se vuoi venire a trovarci anche tu in live dimmelo che ti mando il link come va la chat? cosa dico nel chat? la chat ci chiacchierano cosa ci dicono? scrivete parlavano ancora del canale di Telegram anche loro salutano tutti Simone a te non ti salutano Simone gli sta più simpatico mi dispiace ma può essere può essere alla fine vedono questo con la barba le cuffie ma chi è? sono anch'io di Torino Belen come il grande Mattia ah è vero l'ho visto adesso che l'ha chiesto non volevo dire non volevo dirti che ti fanno delle domande Luca ma proviamo a guardare gli spot se no provo a mandartelo a te che magari è una connessione migliore faccio una prova io se non funziona provo a mandartelo a te va bene io sistemo lo sfondo e puoi mandarmi il link sì Simo vieni con noi che commentiamo le pubblicità anni 90 insieme ci divertiamo tantissimo esatto allora vediamo un po' se va e se non va ah il link di Luca hai il link di Luca ma il mio penale ah il link di Luca ma mandalo in chat e come cosa lo mando io lo mando io aspetta lo mando io sei qua internet proprio sta dicendo ma cosa credi di fare allora YouTube Luca scomparì su Google l'ho cercato quindi vediamo quanto bene sei indicizzato vediamo non troppo bene no scherzo però escono primi video di Maurizio che tu hai davvero? sì eh perché Maurizio sai perché? perché secondo me Maurizio monetizza Sara e quindi YouTube è più interessato a eh infatti il secondo lì il secondo è Sara è Sara perché dovete sapere che io monti video per diversi YouTuber italiani YouTube eh YouTube Luca è grande editor di YouTube Italia esatto non mi va più la A sulla tastiera è il massimo beh questo è un ottimo sé tanto non ti serve mai la A sulla tastiera non è una lettera usata tanto ma no infatti benvenuti in un nuovo video sono Lucas Comparin filmmaker e content creator e oggi voglio presentare come senti è partito il tuo video infatti non capivo ma va bene sentivi la tua voce ma non vedevi la persona ok ce l'ho fatta copiare il link può essere il fatto che non riavvio il computer da un mesetto forse è quello forse dovrei farlo ogni tanto ma è così comodo metterlo in stand by allora ho mandato in chat eh il link al canale di Luca per chi volesse iscriversi però poi devo anche mandare a Simone il link per la live che è questo qui e Simone qui per fortuna però Simone il link lo trovi nella chat ah è vero tra l'altro è vero c'era anche il chat ma te l'ho mandato anche su Telegram Simone il caso allora noi proviamo a cominciare a vedere questo video intanto così vediamo se si blocca o no e se devo mandare il link a te ok non parte neanche l'angorino mi accompagna vaso cinese del seco albraggio signore no niente Luca ti mando il link lo metto io dai allora cerca semplicemente pubblicità anni 90 su youtube ce l'ho già però come condividi lo schermo condividi lo schermo devo rimuovere il mio dovresti avere in basso condividi 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 schermo poi te lo metto io in live abbiamo anche Faustino connesso con noi grande Faustino però non ti vedo ancora quindi mi sa che non sei ancora connesso eccolo qui allora aspetta cioè Luca intanto tu condividilo pure io intanto faccio un saluto a Faustino in diretta ciao ho guardato il link adesso non sono Simo ma faccio finta hai finta di essere Simone devi imitare Simone mi raccomando sì come state? tutto bene tu Faustino? io sono messo qui per un minuto e lascio via per lasciare a Simo tranquillo ciao a tutti ti fa molto piacere averci ciao Faustino ciao così vi siete un saluto velocissimo di Faustino così vi siete anche conosciuti grande ricondivido lo schermo questa volta quello di Luca allora il problema è se io sto usando le cuffie cosa sentono loro? quando hai fatto condividi schermo c'era l'opzione condividi audio computer però se non l'hai vista non l'hai fatto quindi devi togliere la condivisione e rifarla davvero? sì ah ah qua ce l'ho disattiva audio dello schermo? no attiva allora ce l'hai già attivato prova a fare play vediamo se si sente vediamo un po' del seco ambrogio signore sono distratta da un languorino la accompagno a mangiare qualcosa non saprei che cosa ambrogio la mia non è proprio fame è più voglia di qualcosa di buono capisco signore so che non è il momento ma quello che mi andrebbe ora è un Ferrero Rocher signore che qualità Pausa ti prego perché ho già troppi ricordi già troppi ricordi questa qui ragazzi c'era anche in Spagna ci dice Persephone Mar pensa a te questa pubblicità qui in realtà è una di una serie infinita non so quante ce n'erano ma ce n'erano tantissime di pubblicità che erano tutte uguali c'era sempre questa ricca signora borghese era da qualche parte e le veniva fame ma non proprio fame esatto più voglia di qualcosa di buono e che appariva questo maggiordomo magico che compariva dal nulla e tutte le volte magari adesso ne vediamo anche altre schiacciava un pulsante magico da qualche parte e faceva apparire da delle posizioni improbabili questa pila di Ferrero Rocher che effettivamente è un cioccolatino buonissimo a tutt'oggi un po' anni 80 come cioccolatino ma molto 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 buono tra l'altro è vero che Torino è la patria del cioccolato è Ferrero ce l'abbiamo qua comunque anche il cioccolato che è un evento che riguarda appunto il cioccolato che si tiene sempre a Torino siamo delle persone dolci in fondo cosa? siamo delle persone dolci in fondo non dicono proprio questo dei piemontesi però può essere può essere ma poi voglio dire cioè Nutella che mi pare sia tra l'altro insieme a Coca-Cola a Ciao e a pochissime altre persone parole una delle parole più conosciute al mondo proprio in assoluto è italiana è fatta qua a Torino cioè non è fatta tutta qua a Torino però l'azienda che produce la Nutella è piemontese non è proprio di Torino è di Alba Ferrero giusto? sì sì penso di sì anche se in realtà per la Nutella ci sono ancora dei delle dissidie veramente notevoli ognuno cerca di prendersi la patria la patria potestà della Nutella chi dice che è francese che è tedesca che è americana addirittura ma no non è vero dicono anche che la pizza è americana ho sentito che certi americani dicono che la pizza l'hanno inventata loro però voglio dire non mi pare lasciamo che parlino c'è so proprio questo ecco allora vado avanti andiamo avanti magari metti tutto schermo così chi vede sul cellulare lo vede meglio come rubare gli uomo crema frutta è nuovo? sì è nuovo è quello cremoso sì sì è cremoso e la frutta ce l'ha? sì sì c'è i pezzi di frutta ma se così eh che seccatore che sei sì gli uomo è l'uomo è l'uomo crema frutta è l'uomo crema frutta è l'uomo più cremoso dell'universo non ci credi provalo questi qua ragazzi sono tre è un trio di comici Alto Giovanni e Giacomo molto molto uno dei tre penso dei gruppi comici più famosi d'Italia in assoluto che avevano fatto anche loro questa serie di pubblicità perché poi c'è questa cosa è vero che io non guardo la tv da tanto tempo quindi non so se lo fanno ancora o no ma non credo che le pubblicità erano delle piccole serie perché c'erano tanti episodi ovviamente con storie molto semplici pensa sei bloccato tutto ti sei bloccato Tia o mi sono bloccato io non lo so mi sa che forse sei bloccato proprio Tia eh Luca io ho sentito che hai detto Mattia ci sei? non so cosa stia succedendo ragazzi non so se sono io in possesso del tuo canale o se al contrario sono io quello che non funziona dei due eh dobbiamo cercare di risolvere questa cosa questa questione cosa stavamo dicendo su internet? sono dovuto passare all'hotspot del cellulare ah ecco allora nel frattempo è arrivato anche Simo che lo aggiungiamo subito ciao Simo come stai? ciao Simo ciao ragazzi io vi saluto ma non vi vedo perché eh ho anche io un problema di connessione tutti con il problema di connessione ora vi vedo ora vi vedo ora vi vedo perfetto Luca ragazzi vi saluto un attimo che vado a prendere il carica batterie se no il computer si spegne perché un tanto la connessione l'elettricità tutto quanto capita ma questo è il bello della diretta il bello della diretta passerà alla storia come la diretta più incasinata della storia delle dirette di italiano ciao Simo come stai? ciao Matti bene il bello della diretta comunque è una frase che gli italiani io lo dico io lo dico perché magari qualcuno è interessato il bello della diretta è una frase che noi usiamo per dire abbiamo avuto un problema tecnico ma questo è il bello della diretta sono gli imprevisti quindi è una scusa che usiamo per giustificare gli imprevisti come va Matti che mi racconti di bello dall'ultima volta che ci siamo visti a Turin a Turino sì è vero è vero e ti dico che sono come senti raffreddatissimo e parlo malissimo perché sono messo proprio male però tolto questo tiro avanti voglio dire tiro avanti con tanti bei nuovi progetti per lingua franca l'ultimo non te l'ho ancora raccontato ma te lo racconterò presto va bene ok in teoria ho risolto tornato Luca ma Simo che dici guardi con noi le pubblicità e ci racconti i tuoi ricordi su queste pubblicità molto volentieri ho già visto le prime due mi è venuto tipo un mi è stato aperto un ricordo uno spazio tempo in un archivio parallelo quindi sì guardo molto volentieri e allora via con la prossima è pronto io mangio l'insalata fa la dieta vuole fare la modella ma come abbiamo comprato il forno migliore della Rex che va anche a vapore come si chiama Vaporex ah sì il Vaporex quello che l'hai detto tu cucina tutto più leggero e quella mi fa la fame bello croccante qualcuno vuole un po' della mia insalata Rex fatti per essere il numero uno quindi comprate Rex e vostra figlia mangerà anche se non vuole insomma era questo il messaggio mangerà il vostro cibo e vi darà l'insalata raga io ho una domanda per un po' più a tema italiano ma quante volte viene usato il verbo fare cioè nelle pubblicità di un tempo sì il presupposto era che la gente fosse un po' meno acculturata di oggi infatti oggi si usano tutti degli stratagemi o comunque il vocabolario un po' più elevato mentre ai tempi si usavano tipo delle frasi molte brevi con un vocabolario super easy super semplice e super comprensibile e tipo in questa in questa pubblicità hanno detto hanno usato fare la modella fare fare la fame fare la dieta tipo in cinque frasi hanno usato tre volte fare o quattro volte hanno usato fare è un po' il get italiano pare sì è il super ausiliare una roba del genere no? è vero si usa tantissimo è anche bello questa bravo facciamo un video sulle pubblicità tu metti l'expertise io metto le pubblicità su per l'expertise no per l'expertise sai che la persona giusta non sono io hai ragione dobbiamo sentire Lore e avere lui che ci fa una piccola consulenza su questo esatto io ho anche una domanda tecnica per Luca come anzi quanta differenza c'è tra il video editing o comunque la tecnica video di 30 anni fa o comunque degli anni 90 e quella di adesso qual è? allora secondo me da quello che ho visto che mi ricordo che stiamo vedendo anche adesso prima c'era più la cultura di una forte narrazione cioè cercare di dare più il senso della storia dall'inizio alla fine quindi quello che alla fine ti ricordava la pubblicità era la storia che avevi appena visto invece in questo momento quello che deve rimanere più impresso sono i primi secondi è tutto fatto a questione di secondi quindi è molto più pampato cioè molto più luminoso con effetti con transizioni con luci con grafiche prima si dava più importanza invece alla storia quindi il passaggio è stato proprio questo secondo me e poi ripeto non mi ricordo bene tutte le pubblicità però da quello che stiamo vedendo si passa proprio da concentrarsi sulla narrazione e invece adesso concentrarsi sulla sull'immagine sul famoso B-roll Luca il famoso B-roll esatto sì cioè diciamo che prima eravamo attenti o la vecchia generazione era attenta per più tempo ma perché di fatto c'era solo la televisione c'è da dire quello la televisione era il terzo componente familiare il quarto anche perché mentre guardavi la tv guardavi solo la tv adesso sei a noi mezzo secondo tiri fuori il cellulare e vai su facebook e quindi hai bisogno adesso che ci sia sempre l'attenzione al massimo capito mi piace questa teoria non sono neanche io l'expertise dobbiamo sentire anche qua l'ore non so chi sia e chiedo tra l'altro invece a chi ci sta seguendo se hanno notato questa cosa anche nelle pubblicità del loro paese se anche voi avete visto che una volta le pubblicità erano più basate sulla storia più basate su insomma di quello che volevano raccontare le pubblicità oggi sono più di impatto più di immagine più di come si dice di scene fighe ecco perché poi alla fine quello è vediamo se anche loro l'hanno visto nel loro paese poi un'altra domanda che io ho sempre per gli studenti della lingua italiana è ma voi anzi questa è una domanda prima per voi due e poi anche per gli studenti ma voi realmente comprate qualcosa che vedete in pubblicità in tv oppure no io sinceramente no però facciamo l'esempio di premessa esatto facciamo l'esempio di apple ok apple è la classica azienda che non dice mai quali sono i pregi del suo telefono mai non fa mai un confronto con gli altri quello che ti vende è il sogno cioè è la volontà di far parte della famiglia apple e quindi tu non compri magari l'iphone 13 non compri magari il nuovo macbook ma entri per forza in quella casa là in cui puoi entrare in quella famiglia là perché tramite la pubblicità è riuscita a passarti questo concetto più emotivo forse quindi per rispondere alla domanda in maniera diretta no non compri il prodotto specifico ma secondo me non è neanche fatto per il prodotto specifico è fatto per farti per contaminarti con la loro azienda possibilmente io il mio problema è che davvero da tanti anni che non guardo la televisione in Italia guardo una marea di film serie tv ma i canali proprio televisivi non li guardo da sarà dieci anni poi mi è capitato ovviamente di vedere qualcosa a casa di altri ma per esempio io in casa non ho neanche l'antenna collegata ho la tv che va su Netflix su Prime e tutto quanto ma non ho il cavo come si chiama l'antenna proprio l'antenna bianca non so se tutti ce l'avevate nel vostro paese ma non ho il cavo che mi fa vedere i canali normali infatti non capisco più niente da quando è diventato il digitale terrestre io mi sono perso di tecnologia un pochino ne capisco le tv non le capisco più non so ci va un decoder non ci va un decoder ci va un satellite una parabola non lo so non ho idea di come funzioni oggi la televisione quindi ti dico boh le compro non lo so perché non so chi fa le pubblicità in tv e Mar tra l'altro ci conferma anche per la Spagna ci dice assolutamente sì prima l'importante era la storia posso anche farlo vedere effettivamente il commento prima l'importante era la storia adesso solo si cerca l'impatto dei primi e degli ultimi secondi anche nel cinema le storie sono sempre meno interessanti è vero forse è diventata più una questione di immagine di effetto mentre una volta c'erano le storie anche se posso dissentire perché secondo me nel cinema si sta andando nel lato opposto prima c'era tanta è vero siamo passati anche nel cinema a dare più importanza ai primi secondi però adesso si è fatto secondo me il giro proprio perché siamo saturi di tanti impulsi veloci e frenetici anche là stanno iniziando a fare film magari lunghissimi ma avete visto per dire Dune è un film lunghissimo dove alla fine deve ancora iniziare veramente la storia perché non voglio fare spoiler non voglio dire niente per chi non l'ha visto però di fatto tutto il film è semplicemente un intro un'introduzione a quello che sarà effettivamente la storia qui c'è della professionalità però sotto eh Luca cosa dice? non vedo aspetta dice che faceva la script supervisor allora alzo le mani e io lascio la live no ma ovviamente è un'opinione come io lo dico da spettatore beh sicuramente c'è c'è stato soprattutto per le saghe per i grandi progetti cinematografici l'idea di fare film infiniti film da tre ore che una volta non si sarebbero fatti poi quanto di questo sia effettivamente storia e questo non so nel senso che Dune per esempio pensate quanto siamo italiani ragazzi che Dune si scrive sempre uguale cioè il nome è rimasto Dune ma da noi è stato chiamato Dune che è il plurale di Duna una sola Duna le Dune l'hanno chiamato Dune in inglese che è un po' più di effetto se chiedete a me come titolo che Dune sembra la pubblicità di una spiaggia a Borghetto Santo Spirito vabbè vabbè l'ultima volta che hanno provato a mettere una storia in una pubblicità è stato l'esempio rovinoso di Renatino ne abbiamo non ne abbiamo mai parlato vero di questa cosa no allora abbiamo ancora cinque minuti facciamo quest'ultima considerazione Luca riesce a recuperare lo spot full di Renatino proviamo provo a vedere ti consiglio di non trovare l'intero spot di Renatino perché sono tipo cinque pubblicità ah sì non tutto tutto però solo la parte in cui dice nel frattempo vediamo Mark che ci finisce il discorso sulle trame dicendo non ci sono più i veri registi e prima dovevi presentare il nodo nella storia nei primi 15 20 minuti effettivamente adesso magari vanno avanti un'ora di film senza che ancora si sia capito che cavolo ma questo pezzo qua aspetta che aggiungo lo streaming se no non lo vedo lo spot contestato io l'avevo visto quanto dura quello del video lì 0 031 sì 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 quello lì quello lì allora questo qua un attimo di pubblicità sponsorizzate targetizzate allora un minimo di background ma davvero questo voglio farvelo vedere dire due parole e sentire i vostri commenti su questa cosa e poi ci salutiamo ragazzi per stasera ma rimanete con me perché questa pubblicità ha fatto uno scandalo incredibile in Italia ha fatto discutere l'Italia per l'ultimo mese come se non ci fossero dei problemi più importanti ed è la pubblicità della Parmigiano del Parmigiano Reggiano che praticamente vuole presentare questa storia come dice Simo la prima pubblicità da tanto tempo forse che vuole presentare una storia però è diventata famosa perché tutti hanno detto hanno usato un metodo pessimo per trasmettere il messaggio il messaggio che cercano di trasmettere è quanto amore ci sia in chi lavora in Parmigiano Reggiano però hanno deciso di presentarlo così nel Parmigiano Reggiano c'è solo latte sale e caglio e nient'altro nel siero ci sono i batteri lattici l'unico additivo è Renatino che lavora qui da quando aveva 18 anni tutti i giorni 365 giorni l'anno Renatino posso dirti sei un grande è il meglio ma davvero lavori 365 giorni l'anno e sei felice? sì lo sentite questo profumo? questo è l'amore che ci mette Renatino è il mio d'amore? è il mio d'amore? è il mio d'amore? benissimo cosa ne pensate Luca e Simo prima di tutto? voi ovviamente in chat cominciate a scrivere che cosa ci avete visto se avete delle opinioni a riguardo su questa pubblicità? io dico solo cringe molto cringe allora io aggiungerei al cringe il fatto che sono molto schierato dalla parte nella mia testa come può nella mia testa come può essere vera una cosa del genere? cioè come può essere cioè tu stai raccontando una storia no? tu che hai pensato di fare questa pubblicità vuoi trasmettere il fatto che c'è qualcuno che realmente per tanti giorni durante l'anno lavorano come può una schiera di persone professionisti scagliarsi contro chi ha fatto la pubblicità dicendo ah ma voi sfruttate le persone ah ma voi allora raccontate la storia di chi lavora tutti i giorni tutto il giorno cioè secondo me secondo me è una roba impensabile quindi tu dici è talmente esagerata che non doveva neanche passare come realistica esatto è talmente esagerata che è una storia è tipo un fantasy no? è come dire mi arrabbio su una cosa vero che è troppo lontana dalla realtà perché no però su questo io controbatterai dicendo se il messaggio che volevi passare è quanto i tuoi dipendenti si impegnino e ci tengano a questo formaggio perché non usare un metodo un po' più neutro del tipo far dire ah il povero Renatino già mio nonno lavorava a fare il parmigiano del Giano oppure preferisco venire qui che tutte le sere mi fermo fino alle nove perché voglio lavorare perché voglio finire non lo so c'erano tanti altri modi un po' più carini che non avrebbero generato questo tipo di reazione che invece c'è stata perché nell'epoca dello sfruttamento dei lavoratori dei casini vari eventuali fare una pubblicità dove ci sono questi tre borghesi che vanno a vedere la fabbrica come se fossero allo zoo e dicono sei felice Renatino e lui timido alza lo sguardo e fa sì e poi si rimette a fare il formaggio anche perché non posso dire di no esatto sembra che dica sì e poi si guarda intorno per controllare che non lo stiano controllando mi sembra c'erano cioè si sono andati a mettere in un problema che come dici tu è inesistente perché ovvio che è un'esagerazione una pubblicità però è brutto questo messaggio che questi tre vanno allo zoo mi pare che nella versione un po' più lunga gli chiedessero anche quindi non sei mai stato a Parigi no quindi non fai mai le vacanze no e sei felice sì è un po' brutto che passi questo messaggio che è lavorare 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 voglia dire essere felice beh almeno la la buona notizia era che comunque era una pubblicità riservata agli spettatori della televisione quindi non guardando televisione infatti neanche io l'ho scoperta non sapevo di questa cosa finché poi non si è sollevato questo polverone esatto sollevare un polverone e quindi si è un po' si è sollevato un polverone è diventato un problema enorme che in realtà non c'è non è necessario però però anche Marli è terribile questa pubblicità siamo siamo d'accordo io dissento non so perché a lei con lei devo dissentire no no sono d'accordo ovviamente tra l'altro non è male non è male questa formula in cui guardiamo le pubblicità e ci chiacchieriamo sopra e sai cosa vi dico che sarebbe anche molto bello fare fare questa cosa qui ma guardare le pubblicità straniere invece vedere la reazione degli italiani alle pubblicità vecchie straniere così buttiamo facciamo brainstorming di possibili video in diretta però vuol dire che devo esserci in live perché la tua connessione non ce la fa a reggere esatto no ma potremmo farlo come video registrato tipo la reaction così viene anche un po' più animato di noi tre che chiacchieriamo e Belen un'opinione interessante di Belen che io in realtà ci avevo pensato l'ho discusso questa cosa con qualcuno con cui ne ho parlato cioè lo fanno perché così tutti ne parlano il classico non importa se bene o male l'importante è che ne parlino sì possibile per carità però parmigiano reggiano non è l'azienda giusta per fare una cosa simile non ha bisogno di far parlare di sé perché è già uno dei brand più famosi e più considerati in Italia e quindi mi sembra strano che abbiano scelto di fare questa mossa Luca mi dà ragione non lo so e poi magari sì è un problema che ovviamente non lo sapremo mai anche perché come dice Faustino solitamente c'è un gruppo di controllo quando fanno una pubblicità lo fanno vedere a 10, 20, 50 persone dicono vi piace non vi piace cosa c'è di sbagliato però come è possibile o erano tutti milionari quelli che hanno fatto il gruppo di controllo dicono ah bravo Renatino anch'io vorrei dei dipendenti così mi piace questa pubblicità oppure mi sembra strano che nessuno nel gruppo di controllo abbia detto ma che cos'è questa cagata proprio così eh sì ma ci può anche stare che magari lo script fosse veramente questo cioè che tutti dovessero chiedere a Renatino se veramente lavora poi però quando l'hanno dovuto riprendere e registrare c'era quell'attore è venuta così e va bene teniamola così può anche essere mi pare che sia anche di un regista importante non lo dico perché non lo so ma mi pare sia stato girato anche da un regista abbastanza importante ma vedevo un non so chi che diceva un video di qualcuno che diceva che il problema non è del regista perché il regista si occupa di far di dare vita alle cose il problema è di chi ha scritto sì sicuramente la sceneggiatura quindi lo sceneggiatore esatto cioè il problema è di chi scrive il dialogo no? no sì però intendevo c'erano delle personalità importanti coinvolte quindi sai comunque per far capire quanto grande è diventato questo problema anche gli attori stessi hanno ricevuto minacce del tipo ma davvero? sì sì minacce e insulti anche all'attore principale vabbè ma quelli sono dei cretini quelli che lo fanno voglio dire lì si va oltre boh però non lo so però sì è allucinato ma come è successo vedevo io guardo ogni tanto Stephen Colbert l'americano che fa il Night Live e in America ultimamente è successo un casino perché hanno fatto morire in quella che è una sopopera fondamentalmente americana un attore facendogli venire cioè un personaggio ovviamente facendogli venire un infarto mentre fa il Peloton che sarebbe la Ciclette che però è un brand è un nome di una marca come dire Scottex che sì è l'oggetto ma è anche il brand non mi ricordo mai come si chiamano questi nomi che si applicano poi all'intera categoria vedi ci serve ci serve Lorenzo niente da fare e le azioni della Peloton sono scese tipo del 15% 10% il giorno dopo proprio per questo motivo qui spaventoso perché ovviamente è una storia una roba finta e fanno succedere quello che vogliono tanto che poi anche loro hanno dovuto fare una pubblicità con la Peloton che si è incazzata tantissimo perché gli avevano detto possiamo usare il tuo nome nella serie sì ma non gli avevano detto per farci morire uno sopra ho detto morire troppe volte mi demonetizzano il video sicuramente tanto e questo attore ha fatto la pubblicità con la Peloton dove è ancora vivo per far vedere alla gente che è ancora vivo però questo è il livello quindi capisco che effettivamente è dura però alla fine è un discorso di coscienza subliminale nel senso che anche Robert Downey Jr ormai è Iron Man si è capito non è che diventa non è che io sono ignorante e quindi non riesco a capire che c'è differenza non è che associ esatto associ subito quindi bisogna sempre fare attenzione quando si fanno questi tipi sia di film che di pubblicità eccetera basta è davvero difficile raga tenere fuori la o avere una una differenza o un distinguo tra la rappresentazione che uno vede magari in tutte le serie tv di una persona molto intelligente poi la vedi dal vivo e ti aspetti che sia lo stesso personaggio magari anche anche in questo caso forse noi non lo sappiamo ma forse Renatino non è nemmeno un un operaio è un ricco proprietario terriero potrebbe essere cioè ci sono possibilità che Renatino non sia un un operaio ma sia un attore però ormai così dicono sia un un operaio è vero questa cosa e su questa considerazione misteriosa per salvarci qualcosa perché ripeto è un ottimo format che riutilizzeremo sicuramente spero vi sia piaciuto ragazzi questo vedere ne abbiamo viste poche la prossima volta ne vediamo un po' di più e parliamo un po' di meno però farei dei saluti finali quindi un paio di minuti dei saluti finali così ci scrivete ciao se volete anche perché siamo già a un'ora e cinque ho detto un'oretta di live devo ancora fare dei lavori devo preparare delle lezioni per domani la vita dura vita come ho fatto il video la dura vita dell'insegnante d'italiano è stato come sempre bellissimo parlare con tutti voi grazie mille a Mar a Faustino a Luca e a Simo che sono venuti a trovarci in diretta come sapete sempre tutti sono i benvenuti se vogliono venire a fare due chiacchiere ora smetterò di parlare perché la mia voce peggiora sempre di più e la sento sempre più nasale la voce nasale altra espressione italiana se non la conoscete quando sei tutto chiuso qui e parli dal naso e non dal petto e basta come ero stramazzotti come ero stramazzotti che ci ha una parola voce nasale esatto su Lingua Franca ci vediamo domani con un nuovo video domani 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 ci vediamo domani ci vediamo domani su Lingua Franca con un nuovo video verso le 5 del pomeriggio mi raccomando andate a trovare Luca sul suo canale fategli un saluto iscrivetevi e Luca adora ricominciare a postare video che è un po' che fermo quindi ciao Luca grazie mille per essere passato in diretta con noi grazie a voi e salutiamo anche Simo che non ha bisogno di presentazione in realtà perché sono sicuro che già tutti siete iscritti a Simone se non lo siete iscrivetevi e mentre andate giù e scorrete per cercare il canale di Simone mentre passate su quel tastino col pollice in su fateci se non è ancora blu fateci un click sopra avete visto che modo contorto che ho trovato di dire questa cosa grazie mille non è più blu adesso diventa bianco se lo schiacci allora schiacciatelo se non l'avevate ancora schiacciato se l'avevate già schiacciato non schiacciatelo più se no per niente mi piace bisogna stare attenti avrai confuso le persone adesso si disiscrivono perché non hanno capito io ti volevo ringraziare per l'ospitalità Luca mi ha fatto piacere conoscerti è sempre utile vedere vedi questa cosa del fatto dell'attenzione dei pochi secondi è sempre utile secondo me mischiare persone che hanno diversi diverse estrazioni sociali e diverse estrazioni lavorative questo è un vocabolario esageratamente porvito diciamo mischiare persone con diversi con diverse esperienze lavorative e quindi è stata una figata sai perché fa ridere questa cosa di reforbito perché effettivamente oggi da italiani della nostra età diremmo persone con diverso background semplicemente useremmo una parola inglese al posto di altri modi che ci sono ovviamente per dirlo in italiano però noi tutti se non fossimo in un canale che parla di italiano diremmo diverso background quindi alla fine lo parliamo vero vero e Simo con te invece quando si vedono tutti gli altri hai qualcosa di programmato non lo so non ho niente di programmato come puoi ben vedere ho comprato una lavagna e qui nascerà qui il prossimo set di lezioni quindi sono molto contento mi sento super produttivo vedi adesso attacco anche i post-it qui quindi sono contentissimo e in realtà no ho programmato due video e del prossimo anno inizieranno tantissime live tipo una ogni due settimane questo per me è già tantissimo cioè perché non sono proprio abituato basta e poi c'è una serie di viaggi raga tipo Sardegna Milano Puglia per tornare dai miei torno in Germania quindi non mi riposo durante le vacanze quindi video cioè non mi cercate per almeno tre settimane perché non ci sarò aspettiamo i vlog di questi viaggi va bene grazie a tutti ragazzi grazie a tutte le persone che ci hanno seguito e ci hanno scritto in chat come sempre un piacere ci vediamo molto presto di nuovo in live in vado a dormire di nuovo in live e nei video normali ciao Simo ciao Luca ciao a tutti ciao 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 iscriviti al canale